Perché sostengono che loro hanno agito senza qualcosa dei notari, quindi due volte direttamente per loro lo fanno un'interpellante che non precisa, loro lo fanno alla testa, all'alpano perché dicono, è un'attività che non ha agito senza di dare un'attività di un'attività quindi sei grato per questo mancanza di dialogo e frattura? Scusate però, mancanza di dialogo e frattura, noi eravamo informati della data dello sgombero quindi sapevamo che dovevamo muoverci di conseguenza. Tutti voi siete informati che un immobile è sotto sequestro della magistratura per cui se la polizia non fa lo sgombero prima o poi viene denunciata per omissione di dati d'ufficio quindi francamente tutto questo tema delle mancate collaborazioni noi abbiamo cercato in tutti i modi di evitare lo sgombero ricordo che questo prefetto ha fermato con noi un protocollo per cercare alloggi da privati con la risposta che ci siamo, quindi si è esposto il prefetto su questo la questura in assetto di guerra ha cercato di contenere al massimo possibile l'impatto sui bambini ma è evidente che se vai lì con i poliziotti l'impatto c'è comunque non credo che fossero contenti grazie grazie